E' stato proiettato a Palazzo Lascaris, su iniziativa del Comitato per i Diritti Umani e della Commissione Sanità del Consiglio regionale, il docufilm L'Amore Vola, sul tema della disabilità e sessualità nell'ambito della sfera affettiva. Il lavoro, che rientra nel progetto Amare ed Essere Amati, un diritto di tutti, è stato realizzato dall'Associazione Diritti Negati, ADN, con la consulta per le persone in difficoltà e la regia di Paolo Severini. Il docufilm proiettato va a toccare ancora alcuni nervi scoperti? Assolutamente sì, questo docufilm va a toccare il bisogno di amare e di essere amati, cuore diritto imprescindibile e rispettato ed esercitabile. È un docufilm molto forte che vuole toccare appunto il diritto dell'amore, il diritto dell'essere amati da parte di tutti, indipendentemente dalla propria condizione fisica, culturale ed economica. Grazie per la visione!